Benvenuti a... Note Disciplinari Un podcast che parla di musica indipendente Non abbiamo ospiti famosi Per ora Non facciamo inchieste misteriose E non parliamo di fantasmi Note Disciplinari è un podcast dedicato alla musica suburbana Alla scena dei locali cittadini Ai live nelle piazze e nelle strade Un podcast dedicato a chi cerca musica fuori dalla scena mainstream Perché ha gusti alternativi O vuole entrare con noi in un viaggio di musica E non di streams e numeri 1, 2, 3, 4 Note Disciplinari Benvenuti a... Note Disciplinari Un podcast Fruibile E materiale E anche immateriale Allo stesso tempo Che emozione È la prima puntata Sono molto felice Mattia Benvenuti Benvenuti a questa prima puntata Di Note Disciplinari Che bello Siamo qua Nel soggiorno di Casazza A casa di mio fratello E parleremo di musica Di arte Di un sacco di cose Che per lo più si spera che non conoscete Che nessuno conosce E nemmeno noi conosciamo Tra l'altro Noi siamo Mattia Grazioli Alias Il Blallo E... Simone Grazioli Alias Simone Grazioli Ma siamo qui Per parlare di che cosa Simon? Che cosa vogliamo fare? Così Un po' Diciamo presi dalla noia Della musica Che si ascolta In giro Della musica Del mainstream Noi volevamo fare un piccolo viaggio Invece All'interno del nostro paese Delle nostre conoscenze Della nostra città E vedere che cosa succede davvero in giro Che nessuno ci racconta La guida Michelin Delle osterie della musica Esatto Delle trattorie musicali italiane Perché comunque C'è un sacco di musica Che Alla radio ascoltiamo sempre La stessa canzone Sinceramente Tua E poi E poi Quanti artisti ci sono Quanti siete Quanti siete là fuori Cosa succede là in giro A proposito Citavi Annalisa Che noi salutiamo Ciao Annalisa Ciao Annalisa Quando vuoi venire Esatto Perché Ora siamo poveri come la merda E non abbiamo ancora ospiti Se non I tuoi gatti Che ogni tanto inquadreremo E salutiamo Però Prima o poi Di questo podcast Diventerà ovviamente Mainstream E quindi tutti Molleremo Che noi subito il balino Appena avremo i soldi Per i soldi Con questa cosa da ribelli Per i soldi Per i soldi Molliamo i sogni Viva i soldi E niente Quindi ci chiedevamo Cosa succede in giro Per davvero In Italia Sì alla fine È pieno di grandi musicisti No Vai in strada E a volte trovi Questi che suonano La cassa Il rullante Il cellulestone La chitarra Insieme a un'altra musicista Che magari Fa le acrobazie Allo stesso tempo Canta Eppure Eppure magari C'hanno Cinquemila followers E poi pensavo È presente Tutti quegli artisti Che muoiono E diventano famosi Da morti E c'è tipo Nick Drake Esatto Pensa A quelli che invece Cioè In realtà Grazie a noi Potrete farvi conoscere Senza morire Potete rimanere in vita E magari Porterete qua La vostra musica Ci segnalerete Chissà quante robe Ci sono in giro Pensavo Sei mai stato a Urbino A Urbino No Non so nemmeno Dov'è Urbino In che regione Si trova Urbino Chi lo sa Che lo può scrivere Nei commenti Dov'è Urbino Dov'è Urbino Sarai Molise Se non si sa Dov'è Chissà Se c'è qualche Cantautore Nascosto Nella provincia Di Urbino Che fa delle canzoni Bellissime O qualche Scultore O qualche Che ne so Poeta Nascosto Nella provincia Di Urbino O a Campobasso A Campobasso Chissà Cosa succede A Campobasso Tutto secondo me Dipende L'esistenza Di questi cantautori Da se sono O non sono In Molise Perché poi Allora lì È ancora più interessante Esiste in una regione Che non esiste Un cantante Che fa musica Che non esiste Faccio fatica A capire Questo concetto Di non esistenza Legato all'esistenza Cioè quello che succede Ma non c'è O quello che non c'è Ma succede Beh comunque Se avete musica Da segnalarci Vostra O di amici Che sono davvero Incredibile Eppure giacciono Nella sconosciutezza Totale Beh questo è Il podcast Vogliamo parlare Di voi Parlare di Di quello che c'è intorno Siamo noi stessi In viaggio Alla scoperta I sconosciuti E anche falliti A noi piacciono Tanto i falliti Perché diciamo Che viviamo anche un po' In una società In cui viene Idolatrato Il successo Quindi Accendi Non so Youtube Eccetera E' pieno di Queste interviste A gente che ce l'ha fatta Come ce l'hai fatta Invece a noi Ci piacerebbe anche sapere La gente Come non ce l'ha fatta Come si fa a fallire Continuamente Per tutta la vita E come affrontare Questa cosa Eternamente Senza Farne una gran Rottura di coglioni Alla fine E certo Vivere Benissimo Male Fondamentalmente A proposito di questo Simon Io volevo Chiederti Cosa ne pensi Delle tematiche Della musica Generalista Della musica Mainstream Perché secondo me Una cosa che E' iniziato a succedere Anche Che forse Le tematiche alte Profonde Non arrivano Nel mainstream La profondità Beh Basta Secondo me Ascoltare C'è Una specie Di specchio Del Decadimento Penso che si possa Parlare tranquillamente Di un decadimento Culturale Senza Sembrare Di vecchi boomer Come ormai sono Tra l'altro Non mi vergogno Anche se A 35 anni Così 35 anni Sono già boomer Sono già in età Boomerizzabile Credo Sì Secondo me Sei generazione Z Boomer Io invece Mi inquadro bene Tra i boomer Tornando Al discorso Basta Andiamo indietro Nel tempo Facciamo una linea Prendiamo Lucio Dalla Lucio Battisti E li Ragoniamo A Che ne so A Julio Achille Lauro Facciamo Un delta Un differenziale E sicuramente C'è una differenza Poetica Tra le cose Ascoltavo Ascoltavo Un famoso podcast Di comici In cui era intervistato Gino Paoli Si diciamo Ascoltavo Tintoria dove c'era Gino Paoli E Gino Paoli Diceva che Una volta A Sanremo Arrivava la migliore Canzone di ogni etichetta Però Cioè capisci tu Che la migliore Canzone Significava Che Quello Che c'era Dentro Smuoveva De Andrè Gino Paoli Usavano parole Per definire L'amore In maniera Estremamente Complessa Lucio Battisti Tutti i concetti Di amore libero Di cui adesso Sentiamo parlare In maniera Molto imbarazzata Un po' così Cioè Li aveva Li aveva già Sviscerati Molto più Di quanto Si vuol fare Adesso Tramite tutte le notizie Un tuffo Dove l'acqua È più blu Niente di più Con questa frase Intendiamo dire Che aveva scopato Un'altra È fondamentalmente Cioè Per fare un Adesso La canzone sarebbe Scopato un'altra Fine E l'ho dato soldi La poesia Gli ha dato i soldi E poi lei Ci si è pippata La colla Cioè Ecco C'è stata sicuramente Una involuzione Ma In televisione In radio Invece Qui Noi andremo A trovare i poeti E la gente Che c'è in giro Che esiste Perché basta andare in strada Basta Poi internet È questa specie di Di bolla In cui Diciamo che Si narra Che dà la possibilità A tutti di emergere Però sappiamo benissimo Che In realtà Anche lì C'è un sistema Di Di soldi Sponsor Di canali preferenziali Eccetera E che i poveri stronzi Invece rimangono Infangati In un Logar In algoritmi Piuttosto che Certo Ma a proposito di algoritmi Ma se siamo su Spotify Se ci stai ascoltando su Spotify Attiva la campanella Iscriviti al nostro canale YouTube Facili Ecco Diventa anche tu un numero per noi No perché non ce ne frega un cazzo Noi E se non lo vuoi fare Cazzo se frega Ecco No che bisogna dire le parolacce Vaffa il culo E tutte le cose lì Tanto che cazzo Ce ne frega Noi si Bene Sì Tornando alla musica mainstream Stavamo parlando Proprio del fatto che C'è una cosa Che mi fa soffrire tantissimo Ma una cosa proprio che Anzi due cose Anzi mille cose Ma Ma principalmente Che a me fa soffrire La mancanza Delle chitarre elettriche Proprio perché Io da vecchio boomer C'era in generale Una mancanza di strumenti musicali Spesso volentieri Sì Sì È tutto sequencer Non si suona Mi gasa di brutto Sentire magari Nel mainstream Roba tipo Di Martino Con la pesce Che c'ha le chitarre acustiche Le chitarre elettriche Il riverbero C'hanno i sintetizzatori analogici Mi gasa Poi ovviamente sentire Chi comunque È con grande maestria Ci sono un fior fior Di produttori Che Cioè comunque Penso a gente Come Dardast Così Cioè Si mette lì con la tastiera A creare i mondi Adesso Non è che voglio dire Che è tutta una roba Dall'incoglioniti Anzi È una scienza esatta Ma in questa scienza esatta Bellissima A me manca Sentire la vibrazzoncina Un pochino Un flauto traverso Un oboe È Una bella canzone È con un oboe Perché poi Adesso C'era Mannarino Che dicevamo Qualche giorno fa Adesso Mannarino Fa dischi Infatti Quando ha voglia Ciao Mannarino Ti salutiamo Anche tu quando vorrai Venire qua Una casazza Ti vogliamo avere qui Sei bravissimo In mezzo a noi E ci racconti magari Da dove ti sei tirato fuori Questa idea Bellissimo Il folk napoletano Dove Lui di Napoli No lui è di Roma Roma Di Roma E io Se sente Non lo sapevo Scusami Di Roma 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 E anche Un'altra cosa interessante Che secondo me Manca nel mainstream Sono Le combinazioni Armoniche No Un po' Un po' Magari Inaspettate O comunque Con una ricerca Un po' Insolita Beh Le modulazioni Modulazioni Sembra una parola Adesso Cazzo Modulazioni Cioè cambiare tonalità Domenico Modulazioni Cioè C'è una canzone Ci sono degli accordi E poi nel ritornello Vai Perché non ci sono più Le modulazioni Per l'autotio Diciamo Denunciamo questa cosa Denunciamo Che per me Vabbè Ci sta Linguaggio Strumento Però Autotio non vuol dire Che due sette note Disponibili Scala maggiore E quindi Se fai una canzone La minore Hai Dore Mi fa So la si do Fine delle note Che puoi utilizzare Nella melodia Questo vuol dire Impoverimento Non è che Sì è un limite Poi certo Quei limiti Se fai una canzone Con una corda Come il tipo Che fa Canzone Con la chitarra Con la corda Il limite Può essere Anche un punto Di partenza Quando per dieci anni Di musica Un limite Diventa lo standard A me fa cagare Sì ecco Forse Cioè È questo Bravissimo È proprio questo Il problema Che Tutte queste Tecnologie Andate per A sostenere Dei limiti O comunque Dare Un sostegno Artistico Sono diventate Lo standard Anche Mi viene in mente Quando Ha vinto Mahmood Sanremo Con Soldi Soldi Che da lì Tutto ciò Che è stato Intorno Ha iniziato Tutti hanno iniziato A cantare Con la stessa Ritmica Nella voce Tutti hanno iniziato A parlare Di soldi La trappa Ha preso ancora più Più piede Metti Perché comunque L'argomentazione È quella E io dico Cazzo Ma Com'è possibile Che tutto Si deve sempre Adeguare A chi sta facendo Bene Applauso a Mahmood Che ha trovato Una sua Cifra stilistica Una sua Argomentazione Una sua Però Non vuol dire Che poi Tutti Allora Per vendere Devono fare Quello Poi anche lì Dietro a Mahmood C'è Il mitico Dardust Che è un produttore Il numero uno In Italia Vince tutti i Sanremo Com'è che lo chiamano Adesso Quello che tocca a lui Diventa Remida Remida Effettivamente Quello che tocca Diventa È bellissimo Ma perché È una maestria Comunque Esagerata E giustamente Viene preso E anche Diventa Diventa Un riferimento Al pop urbano E ci sta Perché quando sei bravissimo È successo Poi la gente Ti imita No è così Che succede Ma ci piacerebbe Un mondo Con più coraggio Con le alternative Con la differenza Con chi si viene fuori Con l'idea Ok Facciamo un trio Due fagotti Un bidone Un bidone Un bidone Dell'immondizia Ritmica No Come succedeva Una volta In cui le band Si organizzavano Purtroppo Forse questa cosa qua Della cameretta Il bidone La scheda audio Sta diventando Più un limite Che altro Adesso non vorrei Adesso tutti i giovani Mi diranno Mi dicono Ah sei un vecchio Di merda Di qua di là Però Noi ci ricordiamo Una cosa Quando abbiamo Incominciato A suonare Io dell'88 Ho iniziato A suonare Prestissimo A bocca Che non so Anni 2000 E c'erano I generi musicali Certo I generi musicali Quindi c'era Chi studiava il jazz Chi studiava il blues Chi Il punk Chi il metal Chi Poi c'era comunque L'hip hop Che già veniva Dagli anni 80 Il folklore E c'era il pop C'era già anche il pop Sì Sì E Probabilmente La chiave Di questi generi musicali Secondo me Che ci ha permesso Anche di godere Della musica suonata Che tanto Di che tanto parliamo Che un po' manca È il fatto che La comunicazione La condivisione Di questa musica Fosse live E non Chiusi da solo In cameretta Con la scheda audio Che questa roba Cioè È ovvio Che è una facilitazione Aiuta A un limite Aiuta nella composizione Per chi non sa scrivere Per esempio Me aiuta Avere la scheda audio Piuttosto che Dover scrivere Su un foglio di carta Però La condivisione Della musica Insieme Suonare La musica Tra amici Suonare la musica Tutti insieme E Sentire La palpitazione Le vibrazioni Di varie persone Insieme A fare una cosa Minchia Quella Per me è musica Beh ma C'era anche La componente Fisica Del live Della musica Dei concertini Che è proprio Concettuale Fisica Nel senso che La musica È uno spostamento D'aria Quindi Quando tu suoni Sposti Proprio Le particelle Di aria E crei suoni Se tu Sei in casa La guardi col cellulare Scrolli No E vedi Non è che sposta Tanta aria Quello speaker lì Cioè E invece Senti L'high hat Dal cellulare Che fa e frequenzina e invece vai dal vivo senti qualcuno che ti tuona le orecchie con la sua proposta e ti smuove le budella è lì è lì che succedono le cose secondo me e che bisogna tornare davvero potentemente a vivere quella dimensione artistica e musicale oltretutto c'è anche un'altra cosa di cui mi piace discutere che è il metronomo il metronomo adesso è uno strumento ovviamente fondamentale nella musica però Debussy rallenta Claire De Lune c'ha i rallentamenti mentre suona da solo Robert Johnson rallenta e secondo me un'altra cosa che un pochino si è persa nel mainstream nel live del mainstream è il fatto di suonare per forza tutto a click che è chiaro che essendo concepito a click il pezzo per suonare forte come fossimo in discoteca e vabbè allora lì non puoi prescindere però probabilmente un ritorno al genere musicale ad avere cioè immagino che se vado a sentire Vinicio Caposela che non ho sentito in realtà o un mannarino che non ho mai sentito live probabilmente loro si possono permettere di non suonare a click perché c'è un respiro in quella roba lì suona come direbbero quella alla vecchia si mette lì col pianoforte e suona da lui il tempo in base a gente comunque professionista Gualazzi che inizia prima cioè fa l'intro può rallentarlo e poi 1, 2, 3, 4 e iniziano e quella roba lì effettivamente anche fisicamente quando l'ascolti dici perché prima respiri e poi ti senti trascinato nel ritmo quella roba lì è è super emozionante io è un'altra delle cose che adoro della musica suonata live quando vado a sentirla o quando la suono è una componente ovviamente che c'è e invece questa qua ritmica umana ancora fuori dal mainstream invece è la regola diciamo nel senso suonare col timing interno quindi mi viene in mente cito la prima cosa che mi viene in mente i Rusty Brass che sono una brass band locale di Brescia che vanno in giro ovviamente suonano come tutte le brass band che sono le band formate da ottoni che fanno musica tra virgolette bandistica in realtà loro fanno composizioni originali o riprendono temi che in realtà non so se sono balcanici o spagnoli non ne ho assolutamente idea e il timing è proprio umano e quella roba lì ti fa muovere il culo ecco perché perché la palpitazione cardiaca la pancia quello che pensi quella roba lì non è quantizzabile poi capire cioè ci sono ovviamente i visual dietro i grandi concerti che è tutto coordinato adesso viviamo anche in un mondo così molto più tecnologico ma forse quella cosa lì che noi non abbiamo neanche vissuto negli anni 70 negli anni 60 sarebbe bello anche capire chi li ha vissuti certo magari invitare prossimamente sia artisti che l'hanno vissuta sia organizzatori manager agenti che hanno vissuto quest'epoca del diverso del ex mainstream o ma anche come dicevamo prima chi lo vive dietro le dietro le quinte o magari nel sottobosco nel sottobosco nel sottobosco che andremo a esplorare insieme già qualche nome l'abbiamo buttato lì all'ascolto poi pian piano chiameremo amici chiameremo ci farete arrivare la vostra musica e troveremo insieme appunto queste persone inizieremo ovviamente partendo dalle nostre conoscenze personali perché i cantatori di Urbino non li ho ancora scovati ma fatevi sotto mi raccomando e qualche qualche nome che ci viene in mente citavo prima i Rusty Brass che sono questa brass band che fa musica inedita e il nostro Carlo Podiga Super Ego abbiamo Carlo Podiga a Brescia ad esempio esatto che è stato chitarrista di Omar Pedrini ma ha fatto 3000 progetti anche solisti e adesso io penso che sia una delle persone più multischillata del pianeta Terra risuona praticamente andatevelo a cercare sta diventando per fortuna popolare su Facebook ed è uscito il nuovo album che potete ascoltare cercando Carlo Podiga Super Ego e solo su Bandcamp credo perché lui è un ribelle vero grande Carlo Podiga che sia un vero rebel lui ha fatto uscire questo album solo su Bandcamp da un Spotify ma che poi cos'è Bandcamp? eh no Bandcamp è una figata ad esempio tornando al discorso non mainstream è una piattaforma come Soundcloud ma in cui diciamo c'è un taglio più ribelle per quelli che no vaffanculo a Spotify tanto comunque i soldi degli stream non ce li si becca da nessuna parte si va su Bandcamp e facciamo la nostra community il nostro collettivo di gente che si caga solo fra fra noi altri oppure fantastico non sapevi dell'esistenza di Bandcamp? sapevo assolutamente dell'esistenza di Bandcamp molto popolare tra i metallari soprattutto oh no c'è anche hip hop in prima pagina the best hip hop on Bandcamp di febbraio ma che figata cerchiamo Carlo ma che figata bandcamp e quindi c'è anche il nostro amico Tom Shard che è stato preso a musicultura ah figata buona fortuna Tom Shard tanta fortuna tanti auguri dai cazzo Tommy dai cazzo Tommy cercatelo canzoni canzoni incredibili e andremo a vedere anche musicultura adesso che quello pare essere sicuramente un bel bacino invece di di gente che viene per fortuna dalle campagne dal nulla non solo dalle super metropoli dove c'è c'è tutto e ci sono tante persone ma sì 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 esatto c'è il nostro amico Peripezie sempre di Brescia anche lui tanta gente che sicuramente sarebbe bello approfondire fare piccole analisi armoniche magari di qualche pezzo andare a vedere come anche tecnicamente hanno lavorato alla loro musica che alla fine comunque la musica è un misto di poesia e tecnica e specialmente sarebbe bello parlare con loro di musica e di idee artistiche invece che come avete raggiunto il successo come ci si sente ora che è finito Sanremo e tutte quelle cose di qui non ce ne frega per ora niente parleremo sicuramente e chiederemo cosa pensano della vita da scappati di casa che è bellissimo essere di scappati di casa sono sicuro che anche voi lo siete come noi e siete felici beh direi che ci possiamo salutare assolutamente è stato bellissimo emozionante fare la nostra prima puntata se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al nostro canale e tutte quelle robe lì insomma da algoritmo da da algoritmo ok noi siamo i fratelli Grazioli Simone Mattia ci potete trovare dove cazzo volete è stato un piacere stare qui insieme nel nostro nuovo podcast notte ciao ragazzi disciplinari